Grazie a tutti. Le più importanti imprese di ristorazione in Italia ha 12.000 dipendenti e serve 85 milioni di pasti all'anno nella ristorazione scolastica, aziendale, sociosanitaria e per comunità. Siamo qui al salone, l'anno scorso eravamo venuti in visitatori, quest'anno come protagonisti perché crediamo che sia un appuntamento importante per confrontarsi su quelli che sono i temi della sostenibilità. Per Cirfood la sostenibilità è una sfera strategica, la nostra identità si fonda su tre parole, cibo, persone e cultura. Per noi sostenibilità significa poter rendere accessibile a tutta la società la qualità della nutrizione. Lo facciamo perché crediamo che il cibo sia un diritto per tutti e che debba essere fruito anche con prezzi accessibili. Devo dire che forse non ci immaginiamo che ci siano realtà con 12.000 dipendenti così importanti. Una dei vostri collaboratori ha partecipato ieri a un evento sul tema della lotta allo spreco, che mi sembra di capire per voi è un tema importante. Cosa state facendo per migliorare la cultura anche delle persone? È un aspetto importante e complesso. Sono tante le azioni che stiamo svolgendo e che si possono fare. In campo di prevenzione, quello che facciamo è che lavoriamo su una sfera che permette di avere un monitoraggio dei numeri abbastanza consolidato. Quindi ci permette di lavorare proprio in un'ottica di prevenzione dello spreco. Inoltre stiamo cercando di lavorare su quelli che sono i nostri scarti di lavorazione. Quindi quelli che provengono dalla cucina e cercando di attivare un progetto pilota di economia circolare. Invece su quello che arriva sulle cucine, nelle mense, quello che si può recuperare e quindi non viene consumato, quello che attiviamo è, in collaborazione con gli enti come il Banco Alimentare, la Spinut Market e la Caritas, il recupero e la donazione delle eccedenze. Nel 2016, ad esempio, sono state 2,5 le tonnellate di derrate alimentari che abbiamo donato e 60.000 le pietanze. Grandi numeri, molto più di quello che ci immaginiamo. Grazie Maria Elena. Grazie a voi.